Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale apriranno tra poche ore i seggi per le elezioni amministrative. Si vota domani dalle 7 alle 23 e poi lunedì sempre dalle 7 alle 15. Oltre al voto per i sindaci si vota anche in Calabria e per le suppletive a Siene. Eventuali ballottaggi il 17 e il 18 di ottobre ai seggi valgono le regole che valgono un po' ovunque, sempre mascherine e distanziamento, ma non sarà chiesto il Green Pass. In 12 milioni dalle 7 di domattina per eleggere sindaci in quasi 1200 comuni, un test che interessa le quattro maggiori città del paese, Roma innanzitutto, poi Milano, Napoli, Torino, ma si vota anche a Bologna, Trieste e in altri 13 capoluoghi di provincia. Al voto anche per le regionali in Calabria e le suppletive della Camera nei collegi di Siene e in quello di Roma, quartiere Prima Valle. Domani le urne rimarranno aperte fino alle 23 per riaprire lunedì mattina alle 7 e chiudere definitivamente alle 15. Per votare occorre il documento di identità e il certificato elettorale, ma non il Green Pass, ma sarà necessario osservare il distanziamento e indossare la mascherina. Per i comuni sopra i 15 mila abitanti c'è la possibilità del secondo turno tra i due migliori candidati, in quel caso si tornerà alle urne tra due settimane, 17 e 18 ottobre. Secondo turno invece non è previsto nei comuni, fino a 15 mila abitanti. Una volta chiuse le urne avranno subito inizio le operazioni di scrutinio. Nei comuni interessati si comincerà dalle suppletive, in Calabria si partirà con le regionali. Una tornata elettorale che la 7 seguirà con la Maratona Mentana, con ospiti in studio e collegamenti, a partire dalle 14 di lunedì. Parliamo adesso del Covid. Nel giorno in cui nel mondo è stata raggiunta la cifra di 5 milioni di vittime per la pandemia, l'Italia si avvia a toccare la soglia dell'80% della popolazione vaccinata. Proprio oggi il Ministero della Salute ha dato il via libera alla possibilità di somministrare insieme al vaccino Moderna o Pfizer anche quello anti-influenzale. Secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, il ciclo completo è efficace al 92,6% per scongiurare l'ingresso nei reparti Covid e al 94,9% nel prevenire terapie intensive. eppure nonostante questo mancano ancora più di 3 milioni di over 50 che non hanno voluto fare neanche la prima dose. La cronaca è stato domato l'incendio che è scoppiato questa sera a Roma al Ponte di Ferro, il Ponte dell'Industria conosciuto a Roma anche come Ponte di Ferro, il ponte che collega due importanti zone della città, Ostienze e Marconi. Una parte del ponte, quella delle passerelle dove passano condotte di gas ed elettricità, è crollata nel fiume. La rimanente parte, la rimanente struttura al momento regge. Non è chiaro se a far divampare le fiamme sia stata una fuga di gas o se siano partite dagli alloggi di fortuna che si trovano lungo le sponde del fiume proprio sotto il ponte e da lì poi siano arrivate alle condotte del gas. Tutta la zona è rimasta senza luce, la colonna di fumo si vede da buona parte della città, sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e appunto hanno spento l'incendio. Il ponte risale al 1862, inizialmente serviva ai transiti ferroviari. Andiamo in Calabria, Paola, siamo in provincia di Cosenza, quattro persone dello stesso nucleo familiare sono morte per le esalazioni proveniente da una cisterna all'interno della quale c'era del mosto. Ci sono ancora molte cose da chiarire nella morte oggi di quattro persone che stavano producendo vino. Due fratelli, il cognato e suo figlio, intossicata una donna di 35 anni, loro parente, ora fuori pericolo. È successo tutto in tarda mattinata. I quattro uomini erano in una loro proprietà a un magazzino nelle campagne di Paola, Cosenza. Uno di loro si è calato pochi minuti e si è sentito male. Subito è accorso un altro parente per soccorrerlo, ma anche lui ha perso i sensi e così è sceso nella vasca l'ultimo uomo e si è subito accasciato a terra. La donna invece si è solo avvicinata all'invaso, ma le esalazioni sono state così forte che è rimasta stordita. La procura di Paola ha subito aperto un'inchiesta. Il procuratore ha detto che il locale era poco arieggiato, ma questo potrebbe non bastare a spiegare quanto è accaduto. Il mosto produce anidride carbonica, ma dai primi rilievi non sembra che fosse presente in modo tale da uccidere così rapidamente quattro persone. E allora si pensa all'utilizzo di qualche antiparassitario come lo zolfo, che potrebbe aver innescato poi una reazione nella fase di fermentazione, o ancora potrebbe essersi verificato un incidente. Magari in quella vasca è caduta una sostanza, proprio lo zolfo, che ha provocato delle micidiali esalazioni. Si è anche scoperto che una delle vittime non doveva neppure essere lì, era agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking nei confronti della ex moglie. Le donne sono scese in piazza in 600 città negli Stati Uniti per difendere il diritto all'aborto, a mettere a rischio la possibilità dell'interruzione della gravidanza. La legge è voluta dal governatore del Texas, Greg Abbott, che ha limitato l'aborto entro la sesta settimana, anche in caso di stupro e incesto, con la possibilità di denunciare, anche senza prove, in cambio di ricompense. Una legge che la Corte Suprema non ha respinto e che Biden ha definito anti-americana. Inoltre il primo dicembre la Corte, a maggioranza conservatrice, si dovrà pronunciare sulla legge altrettanto restrittiva, varata nel Mississippi. E adesso il calcio, la settima giornata di campionato, quattro le partite giocate oggi, la Juve vince il derby, l'Inter batte il sassuolo e poi vediamo il resto. Contro il sassuolo dai ritmi vertiginosi, l'Inter ha lottato, sofferto, ma solo attingendo da una panchina ricca di fuoriclasse è riuscita a ribaltare il match. La velocità dei padroni di casa ha subito messo alle corde la difesa nera azzurra. Prova ne è stato il fallo in area a cui l'imprendibile Bogac ha costretto Skriniar, per un rigore trasformato con precisione da Berardi. Da quel momento in poi solo sassuolo, che sul finire del tempo ha reclamato un secondo penalty, nonché l'espulsione mancata di Samir Andanovic, siorando poi il raddoppio in due occasioni a inizio ripresa. Sono stati invece i quattro cambi simultanei di Simone Inzaghi a cambiare la storia della partita, con Edin Dzeko che dopo soli 30 secondi dall'ingresso in campo ha incornato in tuffo il bellissimo cross di Perisic. Lì è cambiata anche l'inerzia del match, con l'Inter che si è procurata un rigore contestato sul contatto in area tra consigli e il solito Dzeko, e con Lautaro che ha realizzato il definitivo 2-1, grazie al quale i nerazzurri si portano momentaneamente a una sola lunghezza dalla capolista Napoli. Con la stessa sofferenza la Juventus ha fatto su il derby contro un Torino sempre all'altezza, protagonisti due portieri, autori di Parate Super, decisivo invece Manuel Lucatelli, autore nei minuti finali del gol vittoria, con cui i bianconeri risalgono ulteriori posizioni, agganciando momentaneamente a quota 11 la coppia Lazio-Atalanta. Primo successo stagionale invece per la Salernitana, che piegando il Genoa con una rete di Milan-Duric, abbandona l'ultimo posto della classifica, scavalcando il Cagliari. Ci fermiamo domattina alle 7, torna l'informazione, arrivederci, grazie, buonanotte.